Cicu cicu, qui falco a tutti, qui falco a tutti, non so se si sente che piove Sì Sento io, sento io Tutto per raccontarvi per la puntata settimanale di quelli che è il falco Che praticamente incongregna in vena Che la fa Oh finalmente avete riaperto Che io gli dica, guarda, a dire la verità è lei che gocciona ancora perché è una sprenata oggi Noi siamo sempre rimasti qua Però, a parte che Siccome Mi segue il wrestling E le scorse due notti che è stato il wrestling mania Che è l'etame, le finali dei mondiali del balù Ma anche la finale dei mondiali del balù Ho visto con mia grande stupore Che è tornata la gente allo stadio E me sembra a mia, giusto, no? Vette La gente Al gran stage of the hall Facciamo il sé più o meno, non so come si pronuncia La gente Vette nel stadio Però sego fat Arrivato il 28esimo minuto Che andiamo a un commentare gli incontri E quindi Sono rotti i cojoni Vedendo questo 28 Magni talmente un aneddoto Dei tempi addietro Quando giriamo al cinema Dervid Una volta che era il cinema Adesso che bello, però una volta che era il cinema Che praticamente è all'uscita di un certo Un capitolo nuovo della saga di Batman Mi sembrava che era Batman Returns Batman Begins Batman Il La Ciappata del Chiu Me e altri 3 o 4 miei soci Che poi dopo cito qua sotto Sono partiti con i mezzi meccanici Per inutare la prima fila E sono partiti per andare Batman Begins E quindi niente Sono partiti un po' con le palanche Le palanche che intolci Il Pokor Il Jumbo La Pokor La Coca-Cola Colda Per digerire meglio Dentro nella sala E niente figa I spacciughini I coccodrilli Le bibi Gommosi Parte il film di Batman E me se ricorda mia Quanti chilometri Che fa chiudere Sicuramente più se ne passa Fatto sta che a me sono innamoratissimo di Batman Cioè Vuoi che vengi a fare anche dei pigiami adesso di Batman? Ma sa che Tu darò lì per forza Poi metterò Sa che succede praticamente? Che al 28esimo minuto Ecco perché mi dà me The Batman The film The Batman Si regnano a vesto un cazzo E era partì con le storie dei monaci I monaci I monaci I monaci tibetani I cosi La url Il rogito Dalla cazzo Insomma 28 minuti Che si regnano E non ha Attaccato la Batmobile Cazzo Ma A quel punto Ho gettato la spugna E mi ha svegliato Il mio socio Volpe Alla fine Che praticamente Gia beccupata Poi giocher E gira I titoli di coda Che andà E luttere I miei amici Froci Di semestre Gignaccio E Sono 1.600 Ways K